Malumori per il futuro accorpamento degli istituti 1 e 7 di Pescara nell'ambito del nuovo dimensionamento scolastico. Parti una petizione per salvare la storica media foscolo che dagli anni 60 a San Donato ha consentito di combattere dispersione scolastica e abbandono. Gianni Melilla, presidente dell'Associazione Storia, Scuola e Cultura Fulvio Luciani, quest'ultimo già preside per decenni della scuola in questione si rivolge al presidente della regione Marsiglio e del Consiglio Sospiri affinché la delibere di accorpamento venga revocata. Siamo davanti a una scuola storica di Pescara, la Foscolo, che adesso si chiama Istituto Comprensivo 1, ma che negli anni 60 nacque qui a San Donato, meglio allora si chiamava Città Satellite, per assicurare il diritto allo studio anche a quei ragazzi che sono nati in famiglie più umili, più disagiate. Quindi questa scuola con il suo preside Fulvio Luciani allora svolse un ruolo fondamentale di integrazione scolastica, di inclusione sociale e assicurò il diritto allo studio a centinaia e centinaia di ragazzi. Il fatto che oggi si voglia decapitare questa scuola la dice lunga, su come non si vogliono più contrastare le disuguaglianze sociali, perché la scuola è un fattore di inclusione sociale. Cosa voi chiedete attraverso una petizione? Dunque, la Giunta regionale, con una scelta sciagurata, ha unificato l'Istituto Comprensivo 1, di cui la Foscolo è la scuola principale, con l'Istituto Comprensivo 7, che è localizzato nella zona stadio vicino alla caserma Cocco. Sono due realtà molto diverse. Decapitare la scuola Foscolo, l'Istituto Comprensivo 1, significa venire meno a tutta una serie di progetti didattici molto innovativi che l'attuale dirigenza della scuola Foscolo sta portando avanti, proprio per assicurare il diritto allo studio nel modo più moderno e utile per i nostri ragazzi.